Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi come avete letto dal titolo vi farò vedere Appunto dove andrò Quest'estate, cioè Lo siamo in estate Sono in macchina perché Il tuo appunto è registrazione della macchina Questo è il posto dove andrò In Egitto A Sharm el Sheikh L'hotel è Sharm el Yon Garden E c'è pure un aquapark Ora andremo a vedere Siete pronti? Iniziamo Allora Devo dire Devo dire Raga Prima di continuare Mi raccomando lasciate like e sfidemi al canale Per sopportarmi Io non ho mai preso l'aereo Non so se mi farà paura Sarà divertente Se voi avete poi preso l'aereo Scrivete uno sotto nei commenti Oddio Vabbè Continuiamo Bello questo piccolo Cioè piccolo Acquapark Per i bambini Cioè calcolate che questo è per i bambini Quindi immaginate quello per i grandi Ora vi faccio vedere Oddio Cioè pensate che questo sta dentro l'hotel Cioè oddio Cioè oddio so Vabbè sono bellissimi sti sciguori Però ci stavano in particolare che mi piace E ora spero che lo faccia vedere Ve lo faccio vedere adesso Pure questo è bellissimo Non sono proprio attesissime Però vabbè Cioè mi state dicendo che solo Per guardare i bambini Lasciano tipo Questo è il draglio Bellissime Cioè raga è bellissimo Cioè voi mi state dicendo che questo È il mare No vabbè Io shock Faccio un po' il pazzo lo so Però è bellissimo raga Cioè adoro Anche perché Cioè io sì Non sono mai stato fuori dall'Italia Ok Che ansia Cioè se poi si perde il passaporto No oddio Non ce l'ho mai Devo pensare Vabbè Continuiamo Ma La stanza È di orangione A mio fratello ci piacerà un bocca Pure i divani ci stanno Oh my god Vabbè Continuiamo Continuiamo La scrivania Così mi faccio Conviure Come se li avessi mai fatti Mi piace Questo è tipo un barco Giochi per i bambini Troppo bello Il kids club Bello Tipo È tipo quello blu È tipo un vortice Che fa tipo così Wuuu Troppo bello Lo devo fare solitamente Raga Io sclero Là dentro Se questa è la cucina Raga Io sclero C'è buonissimo No Che roba è questa No scusate Cos'è quella roba arancione Questa roba giallina Qui Questa Questa Cioè che roba è No Questo è dove si cucina C'è la menza Diciamo Mi piace Quell'abbigliamento Che ci danno C'è Particolare Vedete Tutte Ste cose Dovaglioli Mi piace C'è Fanno proprio Accurato Proprio Una meraviglia Pure l'acqua La piscina È meravigliosa Sperò che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo Ci vediamo In un prossimo video Ciao